salve a tutti ragazzi e bentornati su mitchtuning dopo l'uscita del video sul montaggio della isudar come vi avevo già anticipato sarei andato a fare un video sul montaggio di una dashcam e la dashcam in questione è la medesima come potete notare ve la faccio vedere da vicino è quella proprio della isudar da 1080p con la possibilità di registrare ovviamente qui ci sta una micro sd da 16 gb inclusa con il biadesivo la parte dove va collegata è già stata montata ma vi farò vedere passo passo quindi che dire io direi di cominciare con l'intro e poi andiamo installare subito l'applicazione è così vediamo se effettivamente funziona e poi andremo a montarla intro e cominciamo subito ok cominciamo subito con il video ci troviamo al computer dobbiamo semplicemente andare su google chrome e aprire questo link che vi lascerò in descrizione questo è diciamo la pagina dove ci sono le applicazioni che si possono scaricare sul sito della isudar se avete come me una radio con processore px 6 qui ci sono le applicazioni che isudar cita a disposizione per il download gratuitamente tra i quali l'applicazione che ci servirà per utilizzare la dashcam in questione di cui vi lascio sempre il link in descrizione ovvero adasdvr apk ci clicchiamo ci aprirà questa pagina facciamo su scarica andiamo avanti ora dovrebbe partire il download di qualcosa ok scarica comunque vediamo se parte eccolo eccolo qui perfetto una volta scaricato lo mettiamo dentro una pennetta usb credo che tutti sappiate come fare ovviamente formattata altrimenti io lo andrò a caricare direttamente dentro google drive tanto google drive collegato al radio quindi diciamo è perfetto quindi lo andiamo non mi si trascina perché non mi si trascina facciamo così eccolo andiamo se me lo carica ok se me lo sta caricando perfetto si va bene non c'è problema quindi niente ragazzi abbiamo il nostro la nostra applicazione adesso torniamo in macchina ok una volta in macchina io accederò al mio google drive altrimenti voi accederete alla vostra pendrive o la sd quindi diciamo più o meno è il procedimento uguale per tutti una volta copiata la pk sulla radio questo provvederà automaticamente all'installazione come potete vedere quindi farà tutto lui voi basta che andate avanti avanti ovviamente leggete con attenzione ciò che vi verrà scritto andiamo subito a verificare ad aprire l'applicazione vediamo se funziona effettivamente la dashcam va va funziona tutto perfetto wow devo dire è fantastica adesso siamo pronti a montarla direttamente su parabrezza fisicamente ragazzi per montare la dashcam abbiamo questo cavetto abbastanza lungo con alla fine una porta usb che io ho collegato alla porta usb centrale che non riesco a farvi vedere da qui eccola questa qui sotto qui ci sta la porta usb della dashcam io ho fatto fare tutto questo percorso ecco questa qui dovete togliere la guaina passa qui sotto e poi l'ho lasciata qui per un po' di tempo ecco adesso andremo a fare l'ultima parte del montaggio quindi bisogna togliere il montante per farlo ho fatto già un video a riguardo faremo passare il cavo qui sotto sotto e sotto al cielo che per di più mi si sta pure scollando con il tempo queste fiat purtroppo sono così e la dashcam credo che l'andrò a posizionare in quella in questa posizione qui abbastanza centrale ovviamente guardate dall'altra parte se viene dritta o meno perché non vogliamo montare la storta ma deve essere dritta spero che il 3M regga su questa parte puntinata cominciamo quindi con la pulizia del nostro parabrezza e l'ho pulito con un semplice prodotto che utilizzo sempre per pulire i vetri altrimenti potete utilizzare qualsiasi altro sgrassatore basta che pulite bene la superficie e la sgrassate correttamente fatto questo andiamo a toglierci la guarnizione io oramai faccio praticamente con le mani se non riuscite usate un cacciavide o qualcosa di piatto e poi sfighiamo solo il montante senza toglierlo tutto tanto non ce n'è bisogno il cavo è molto lungo quindi ci prendiamo una misura anzi in realtà senza nemmeno prendere la misura colleghiamo la dashcam alla prolunga e poi come vedrete dopo io tirerò sotto così da far scorrere il cavo e poi arrotorarlo dove sta il vano della radio insomma così da non avere cavo aggiuntivo dentro il montante o sotto il cielo che può dare fastidio con un nastro isolante andrò a solidificare il contatto tra la prolunga e la dashcam perché non si sa mai come vibrazioni possa allentarsi quindi con un nastro isolante vado a tenerlo praticamente saldo così è come se fosse un pezzo unico vi consiglio di farlo così non avrete spiacevoli sofferenze qualora vi si presentasse il problema e magari poi vi dovrete ammazzare per capire la causa poi magari è semplicemente il contatto fatto questo io mi posiziono come dicevo prima subito la dashcam sul parabrezza senza fissarla la posizione basta faccio passare il cavetto ragazzi ho finito di montare la dashcam in realtà cioè non è che ho proprio finito perché l'ho semplicemente appoggiata neanche io ho tolto il biadesivo ma ci ho messo un po' di nastro isolante così per tenerla più o meno ferma così cerco di capire bene se la posizione è corretta però comunque il montaggio è questo vi faccio vedere se ci riesco i cavi non si vede niente tutto perfetto vediamo se funziona anche se l'abbiamo già visto prima poi ci saranno da spulciare tutte le varie impostazioni della dashcam vediamo come potete notare ci sta un po' di riflesso sul vetro bisogna capire se in giornata poi questo riflesso si toglie però questa diciamo che secondo me è l'unica posizione dove metterla dashcam non ha senso metterla agli angoli ma comunque deve cercare di stare il più centrale possibile e niente dentro ci sono tante varie impostazioni da andare a settare però funziona tutto il montaggio è riuscito e è perfetto quindi ragazzi se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace vi ricordo di iscrivervi al canale e di seguirmi su instagram Mitch Tuning per questo video è tutto ciao a tutti ragazzi ciao a tutti